Dormiti! Potenza degli elementi! Forza del cristallo! Irohk! Potenza percorante! Allora, chi è il nostro nuovo amico? È un Eclipseon e vuole prendersi il frammento. Non è di grande compagnia. Non è neanche un grande conversatore, direi. Scappi a noccia! Scappi a noccia! Gormito! 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 Gormiti, potenza degli elementi Energia del magma Combatti Urik, rapido come una scintilla, ardente come la lavora Wow Grandioso, segui il tuo istinto Chiami un Gormiti a caso e a sorpresa Urik Che soffre di vertigini Ehi, un po' di rispetto, ragazzino Esplosione vulcanica Dormiti 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 Dormiti